La scuola media di 9, come da tradizione, ha festeggiato la fine dell'anno scolastico all'insegna della musica e dell'allegria. Si è infatti svolto il consueto concerto vissuto con partecipazione dalla comunità. Accanto ai tradizionali brani suonati e cantati di grande successo sono stati i brani El Mismo Sol e Sofia di Alvaro Soler, suonati da tutti i 200 alunni della scuola. Toccante il brano vincitore dell'ultimo festival di Sanremo, Non mi avete fatto niente, festivaliero e coinvolgente occidentali scarma, travolgente il saluto con Una vita in vacanza e in effetti dopo il concerto c'è stato rompete le righe. Durante la manifestazione sono stati anche premiati gli alunni della scuola che hanno brillato sia in ambito sportivo sia in attività extrascolastiche, in particolare i giochi matematici individuali e a squadre.